Allora, buongiorno a tutti, siamo qui oggi con il Ministro Fabiana Dadone, Ministro della Pubblica Amministrazione. La ringrazio per averci concesso un po' del suo tempo per questa breve intervista e io inizierei subito con le domande. Allora, qual è stato il percorso che l'ha condotta a essere Ministro e qual è la sfida più grande che ha affrontato finora? Allora, non c'è stato un percorso prestabilito e non mi sono mai data l'obiettivo effettivo di diventare Ministro, ho sempre lavorato come parlamentare con la serenità di chi vuole fare un buon lavoro all'interno delle istituzioni, per cui ho sempre studiato approfonditamente tutti i dossier perché mi piacevano, ho seguito tutta la riforma costituzionale con tanta passione e con tanto senso dello Stato, lo devo dire molto onestamente. Sfide ce ne sono state tante tutti i giorni, a livello parlamentare forse la più grande è stata quella da relatrice di seguire una riforma sul referendum propositivo che ha implicato quasi sette mesi di lavoro per un singolo articolo, ma è stato veramente molto bello ed emozionante. Come Ministro ce n'è una nuova ogni giorno, anche se forse quella più importante è quella di dare una nuova immagine della pubblica amministrazione che sia costruttiva, positiva e che incentivi chi lavora bene tutti i giorni all'interno della pubblica amministrazione a sentirsi fiero di stare con noi. Tutti i Ministri che l'hanno preceduta hanno tentato di fare riforme della pubblica amministrazione con alterne fortune, è un lavoro complicato che presenta comunque numerose difficoltà. Perché per lei dovrebbe risultare più semplice? Io non ho intenzione di fare nessuna riforma con il mio cognome perché penso che l'Italia legiferi fin troppo, c'è un problema di sovrapposizione legislativa e non si valuta mai invece la fase successiva. Si fanno grandi riforme ma non si valutano gli effetti della riforme. Invece io ho proprio preso questo tipo di decisione dopo aver passato il primo mese a leggere i fascicoli dei lavori fatti dai miei predecessori. Fermiamoci e andiamo a fare degli interventi piccoli mirati di cesellatura sulle norme che già sono in vigore oggi. Tentiamo quindi di lavorare sugli effetti per migliorare la pubblica amministrazione. Ok. Cambiamo ambito. Fabiana Andadoni, Ministro, Donna e soprattutto Mamma. è un esempio di forza, di capacità e caparbietà. È difficile coniugare due vite così diverse e così impegnative? È molto difficile, penso che lo sia però per tutte le mamme lavoratrici. Fare la mamma richiederebbe tutta la giornata e lavorare bene richiederebbe tutta la giornata. Quindi un po' si sacrifica un lato o un po' l'altro. Però devo dire che a volte fare la madre è più difficile che fare il ministro perché non c'è un fascicolo, un dossier, non ci sono strutture e tecniche che ti possono dare la soluzione giusta. Quindi è una grande sfida riuscire a conciliare i tempi di vita. Io sono fortunata, ho una famiglia che mi assiste e mi dà una grandissima mano. Non tutti hanno questa fortuna, per cui penso che sia importante anche incidere sulla possibilità di gestire meglio il tempo lavorativo e di vita, magari implementando misure come lavoro agile anche all'interno della pubblica amministrazione. Perfetto. Essere ministro non è comunque da tutti. Qual è la sua giornata tipo? Non c'è neanche una giornata tipo. In realtà non si stacca mai effettivamente dal lavoro. Il lavoro dura giorno e notte, si porta a casa, si porta nel weekend, si fanno un sacco di riunioni, si leggono un sacco di fascicoli, ci si sposta tra un palazzo e l'altro per riuscire a coordinare i vari tavoli di lavoro. Sicuramente è un tipo di vita che richiederebbe anzi più di 24 ore al giorno di lavoro. Diciamolo con molta onestà perché il lavoro da fare è veramente tantissimo, se uno lo prende con la serietà giusta. È un life motive che dà la grinta tutti i giorni? Quale potrebbe essere? Vi posso dire quello che ha dato la grinta a me da quando studio. In realtà è una cosa che mi ha sempre detto mia madre, che la forza di volontà sembra un po' tutta ogni capacità. Anche se uno non si sente all'altezza delle sfide quotidiane, se ci si mette la forza di volontà giusta, la determinazione, poi si superano tutti gli ostacoli. L'ho pensato anche quando sono diventata ministro perché la prima cosa che mi è venuta in mente è adesso che faccio come si fa a fare il ministro perché chiaramente un conto è stato fare il parlamentare che ha richiesto anche lì un grande sforzo, però uno sforzo che ho già superato e quindi lo considero come assorbito. Invece di riuscire a fare il ministro senza una formazione specifica, perché non esiste una scuola di formazione per fare il ministro, è stato abbastanza scioccante all'inizio, però ho pensato quello che mi ha sempre detto mia madre. Se hai forza di volontà riesce a superare tutti gli ostacoli ed effettivamente funziona. Effettivamente funziona. Allora noi in quanto studenti dell'Università degli Studi Internazionali siamo consapevoli che i vari aspetti della vita, anche quotidiana, sono oggigiorno sempre più globali e interconnessi tra di loro. Ha riscontrato nel suo campo, che appunto è la pubblica amministrazione, questa tendenza all'internazionalità? Certo, ci deve essere, la stiamo implementando. C'era già con i precedenti ministri, soprattutto con l'attività di Open Gov, quindi si è fatto sempre un'attenzione allo scenario internazionale e noi stiamo tentando di implementarlo ulteriormente, anche con delle brevi missioni all'estero per riuscire a copiare le migliori pressi che hanno gli altri paesi. Una in primis, la prossima settimana saremo in Francia, anzi questa settimana saremo in Francia, per vedere come loro modificheranno la scuola nazionale della pubblica amministrazione, proprio per riuscire a dare una nuova impronta anche alla nostra. Visto che la loro è in fase di evoluzione ed è sempre stata il punto di arrivo di quella italiana, allora andiamo a vedere lì che cosa stanno facendo, che tipi di ragionamento hanno fatto per riuscire a preparare i loro migliori dirigenti e riuscire a portare le migliori pressi qui. Poi chiaramente questo discorso si può applicare a una serie di ambiti, però il mondo oggi è tutto internazionale, quindi non si può pensare di chiudersi in se stessi e di stare dentro una torre d'avorio senza guardare il mondo intorno. Ok, appunto l'Italia riscontra un elevato tasso di giovani che oggi scelgono appunto di scappare in un certo senso all'estero per cercare fortuna ed è un po' la cosiddetta fuga di cervelli, via. A suo avviso quali potrebbero essere le iniziative per contrastare questa tendenza? Io parlo semplicemente per la pubblica amministrazione perché questo è il ministero che dirigo. Bisogna riuscire a rendere la pubblica amministrazione un'alternativa attrattiva. Io stessa quando sono uscita dall'università non ho avuto il sogno o la speranza di diventare un alto dirigente dello Stato. Oggi col senno di poi penso che se lo Stato fosse venuto all'interno della mia università e avesse creato un canale di connessione tra l'università, la scuola nazionale o anche implementando gli stagi all'interno dei ministeri avrei avuto questo obiettivo. Penso che non dando sempre un'immagine negativa della pubblica amministrazione solo come posto fisso, posto nel quale si entra e dal quale non si esce più, ma come un'ottica di crescita e di braccio dello Stato, quindi piena di soddisfazioni, di missioni e non tanto la cosiddetta ottica della mansione, penso che potrebbe essere un ottimo punto per riuscire a disincentivare i giovani di andare fuori dall'Italia. Ma venite prima da noi. La pubblica amministrazione è bella, ci sono tanti ruoli splendidi, e non vedo perché sempre andare a cercarle all'estero o nelle aziende private. E credo che darebbe anche tanta energia allo Stato che oggi ha bisogno di energie nuove, perché l'età media, lo saprete, è molto avanzata, quindi ci servono giovani preparati e che abbiano una mente smart al passo coi tempi. Chiudiamo l'intervista. Qual è il messaggio e il consiglio che vuole dedicare a noi giovani adulti? Consiglio, non so se sono in grado di darvi dei consigli, se non di non arrendervi mai, di non pensare che i sogni non si realizzino, bisogna essere anche concreti, ma allo stesso tempo darsi degli obiettivi alti per riuscire a raggiungerli e non pensare che qualsiasi cosa sia impossibile. Se c'è determinazione si riesce a ottenere qualsiasi risultato. Io la ringrazio molto e vi saluto. Grazie.